Come è la nostra partita? È chiaro che è una squadra che cerca di aggredire alto e dobbiamo essere bravi a venire fuori dal pressing, se riusciamo in questo poi saltano gli equilibri e possiamo trovare più spazio sulla tre quarti avversaria, però loro prestano molto alti e cercano di non farci giocare la prima palla alla ripresa del gioco dal portiere perché alzano minimo tre giocatori, sono abbastanza aggressivi. Superare un turno di Coppa Italia al cospetto di un avversario anche se non sta facendo bene di Serie A è sempre una motivazione importante per affrontare le partite in campionato, per cui hanno l'entusiasmo di una qualificazione importante, però è chiaro che dobbiamo essere bravi noi a farli correre. Se noi siamo bravi a gestire bene la palla, certamente il dispendio di energie da parte dei nostri avversari cresce e possono avere magari nella seconda parte della partita stessa un calo fisiologico. No, ma soprattutto come sono fatti i rinnovi, perché è chiaro che uno può anche pensare se fanno il rinnovi e hanno raggiunto un determinato obiettivo i giocatori possono appagarsi di questo, invece la società lavora molto sugli obiettivi, per cui è interesse di tutti fare il meglio perché ogni cosa che si raggiunge è valutata in una certa maniera. La cosa bella è che questa società per fare stare tranquilli i giocatori magari rinnova e allunga i contratti ai giocatori che in questo momento magari non giocano, giocano poco. Gente come magari Russo che viene da un periodo, insomma è stato infortunato e adesso chi sta davanti a lui sta facendo bene e non sta giocando, però questo non sminuisce il suo valore, la società ha prolungato il contratto così come Frara, che è un giocatore che anche se ha una certa età, credo che noi allenatori piace averli sempre in organico perché sono giocatori che te li trovi sempre, per un minuto, per dieci minuti, per una partita, sono giocatori di grande affidabilità e quindi sono contento perché avere anche la tranquillità di questi prolungamenti in una società come il Frusinone fa piacere, anche per quelli che giocano chiaramente, però è importante capire il messaggio che questa società dà perché per noi non ci sono titolari o riserve, c'è un organico e se rinnova la fiducia alla società a lungo termine significa che fanno parte di un progetto anche a lungo termine. La cosa più importante è cercare di trarre il massimo in ogni partita perché è normale che se fai bene cerchi di guadagnare sugli altri, se cerchi di trarre il massimo in ogni partita ci riesci, sia dietro sia magari metti pressione a chi ti sta davanti, però ripeto, noi come ho detto prima dobbiamo sprecare il meno possibile energie mentali per fare calcoli che non servono, dobbiamo guardare solo in casa nostra e perché dipendiamo da noi stessi, perché se noi siamo pratici, se noi siamo concentrati, attenti è più facile ottenere punti, fare risultato, e non possiamo permetterci di avere cali di tensione, perché quando ci sono cali di tensione siamo una squadra prevedibile.